L'uso massiccio della rete negli ultimi giorni impone nuovi investimenti infrastrutturali per superare il divario digitale. Il digital divide è un'emergenza nel paese e anche in Piemonte, dove abbiamo le città che corrono ad alte velocità e i territori che non riescono a superare dei limiti legati appunto a una rete obsoleta che ha bisogno di investimenti. Il piano nazionale per la banda ultralarga è in ritardo di due anni. Per il Piemonte sono 295 milioni di euro da investire in 1100 comuni, dove l'infrastruttura in fibra ottica e senza fili può portare nuova competitività alle imprese e nuove opportunità sia per la pubblica amministrazione, sia per il terzo settore, per le famiglie. Abbiamo la necessità di sbloccare una serie di lavori che sono rimasti impantanati nella burocrazia. A livello nazionale lo abbiamo detto con forza a Infratel, al Ministero dello Sviluppo Economico, ai ministri competenti, a Open Fiber che gestisce i lavori. Proprio oggi abbiamo avuto notizia che uno dei grandi operatori team di questo paese sta investendo per dare banda ultralarga ai territori. Abbiamo bisogno di farlo anche con le altre imprese delle telecomunicazioni. E' forte il dialogo con Vodafone, con Wind3, con Eolo, BVBel, altre grandi aziende che devono, con i piccoli operatori che lavorano sui territori, permettere delle nuove reti e una nuova opportunità di connettività per tutti i cittadini e per le nostre amministrazioni locali. Anche sulla telefonia mobile bisogna fare di più. Abbiamo 1200 comuni in Italia, quasi 150 in Piemonte, che registrano problemi con uno o più operatori nel telefonare, nel mandare i messaggi, e le segnalazioni che Uncem ha ricevuto lo scorso ottobre sono state sottoposte a tutti gli operatori, ad Astel, Confindustria, ad Anfov, alle altre associazioni di categoria con le quali insieme bisogna muovere una lobby virtuosa per dare ai territori più opportunità e dare a chi vive nelle nostre aree occasioni di sviluppo e di crescita che non può essere un'infrastruttura mancante a bloccare o a limitare.